insieme a degli alcolici in un mix letale. Agenti della Polizia Scientifica di Roma, in collaborazione con quelli di Firenze, impegnati in un sopralluogo questa mattina nel Bosco degli Scopeti, a San Casciano Val di Pesa, dove furono trovati uccisi nel settembre del 1985 due fidanzati francesi, le vittime dell'ultimo omicidio attribuito al cosiddetto mostro di Firenze. Servirà a ricostruire con immagini tridimensionali il luogo del delitto, e il materiale sarà messo a disposizione degli archivi della Polizia di Stato.